Siamo con la professoressa Scotto Lacchianca del consiglio dei ragazzi di Maerte Martellago e con il professor Cavinato che rappresenta il consiglio dei ragazzi di Leonardo da Vinci di Venezia e anche di Maerte Martellago, entrambe le esperienze. Allora comincio con una domanda a lei professor Cavinato. Qual è secondo il suo parere la chiave per far avvicinare i ragazzi al concetto di cittadinanza e di incuriosirli in questo senso? Dunque è senz'altro quella di aiutarli a leggere in modo un po' più incuriosito, un po' meno banale, un po' meno piatto l'ambiente di vita e non dare per scontato niente di tutto quello che fa parte della loro vita dall'andare a scuola sempre in macchina, sempre coperti, protetti, imbacucati, sempre sotto l'occhio vigile di un adulto via via anche alla possibilità che danno o non danno le frequentazioni che loro hanno anche in altri momenti extrascolastici la partecipazione ad attività sportive, ad attività ludiche, eccetera, che sono sempre più nella nostra società delimitate, regolate, regolamentate, cosa che a loro almeno inizialmente non crea problemi ma li crea nel tempo perché non hanno l'abitudine appunto a problematizzare, a scegliere, a decidere, a essere autonomi nelle loro attività e soprattutto hanno scarse possibilità rispetto a un tempo anche di frequentare ragazzi più grandi, più piccoli, anziani come era, come avveniva naturalmente in strada un tempo. Ecco, allora problematizzare questo significa cominciare a vedere che nella strada, nell'ambiente, a scuola, in tutta una serie di luoghi di vita intervengono soggetti diversi che sono dei sistemi formati da delle interazioni e queste interazioni possono anche essere cambiate e possono essere cambiate con il loro contributo, con il loro apporto. La prima cosa è ascoltarli, ascoltare e far emergere dei bisogni che non emergono normalmente. Ascoltarli e non soltanto rappresentarli facendoli diventare soggetti passivi ma veri soggetti attivi nella formazione del loro stessa civica. Certo, soggetti attivi provando a mettersi in gioco in alcune situazioni che sono loro proposte, sono loro offerte. Noi andiamo spesso col consiglio dei ragazzi di Martellago per esempio in dei luoghi a fare due o tre giorni chiamiamo pomposamente stage, ma comunque vedere degli ambienti con occhi diversi e vedere che difficoltà o che opportunità danno ambienti diversi, che non siano sempre lo stesso luogo frequentato oppure il villaggio di vacanze dove è già tutto predisposto e non c'è niente da scegliere. Professoressa, lei come vede i ragazzi quando vengono responsabilizzati? Qual è la loro reazione quando si sentono così attivamente coinvolti? Beh, qualcuno di loro quando deve fare sollecitare gli altri a proporsi, a candidarsi, dice sempre che questa è un'esperienza unica che quando si diventa consiglieri si diventa quasi persone importanti che godono di un certo rispetto. Alcuni di loro dicono che è importante, è importante che anche un bambino capisca quanto prezioso sia il suo tempo. Molto spesso i bambini si annoiano, si annoiano oppure sono iperattivi, cioè vengono canalizzati in attività dove loro non hanno la possibilità di scegliere nulla perché è la famiglia che sceglie molto spesso. Loro al limite possono scegliere lo sport, però la famiglia gli dice tu vai lunedì, mercoledì e venerdì qui perché ci sono proprio delle componenti di necessità della famiglia. Nella situazione di un consiglio di ragazzi loro capiscono che la responsabilità che gli viene data è quella proprio di fare delle proposte e quindi di partecipare attivamente sostanzialmente al loro processo di crescita ma non loro nel senso di io faccio questo, ma nel senso di noi. Allora la cosa più importante è la trasposizione tra l'io e il noi, in una società che inutile dirlo è banale ma che ti porta all'individualismo, che ti porta al fatto di dire prima ci sono io, poi vedo se c'è spazio e penso anche a qualcos'altro. Invece capire l'importanza di un noi, di crescere tutti assieme e di avere la responsabilità non solo delle azioni che fanno loro ma anche delle azioni che fanno gli sta vicino che molto spesso loro pensano che sia importante magari solo che uno si comporti bene e poi va tutto a posto ma poi quando escono e vedono che ci sono dei danneggiamenti nel bene pubblico, le panchine, i giochi, le cose dicono mettiamo le telecamere, facciamo questo, non pensando che magari tante volte sono loro stessi potrebbero fare da telecamera. Allora si comincia a responsabilizzarli dicendo quando vedi qualche cosa, hai il sentore di qualcosa che accade fuori nel territorio eccetera, non devi far finta di niente, non devi pensare che quando tu sei a posto è tutto a posto perché comunque questo non è un comportamento consapevole e non è una prova di responsabilità. Certo, è anche un modo di fare educazione civica non sui libri ma direttamente coinvolgendoli e nello stesso tempo da quanto ho capito gli adulti sono dei tutori ma non sono invadenti nelle loro decisioni. Beh, è chiaro che non potrebbe essere così. Francesco Tonucci che è lo psicologo a cui ci siamo ispirati per i consigli comunali nati in Italia, proprio quello che dice che il bambino e il ragazzo cresce lontano dall'occhio dell'adulto. Questo non significa che bisogna abbandonarli, però non significa neanche che bisogna essere iperprotettivi e soprattutto mettersi al posto dei bambini. Non è vero che noi possiamo essere amici dei bambini a tal punto da essere come loro, da pensare come loro, da decidere per loro poi alla fine perché è come se fossimo un grande gruppo. Noi dobbiamo avere il nostro ruolo e dobbiamo anche far capire ai ragazzi che il ruolo dell'adulto è nettamente diverso da quello di un bambino. Però la responsabilità dell'adulto è anche quella di dire io vedo, io ascolto, percepisco, cerco di mettere in pratica ma non mi metto al posto del bambino perché quello è il suo ruolo e io ho il mio. Poi mi sembra di aver capito anche vedendo il video che vi ha rappresentato quanto rimanga a questa esperienza nei ragazzi che sono anche diventati adulti e si sono portati un'esperienza dietro. Sì, io ho visto con molto piacere ritornare dei ragazzi e anche preoccuparsi di come prosegue il consiglio dei ragazzi, di che iniziative fa. Ho visto ragazzi che hanno fatto parte del consiglio alle recenti manifestazioni, per esempio studentesche e degli insegnanti sulla scuola con una grande consapevolezza del loro compito, se si fanno portavoce della rete degli studenti in cui partecipano, sempre richiamandosi a questa esperienza preesistente. Quindi l'idea che nell'arco della loro vita loro hanno fatto un percorso che li ha portati ad alcune scelte. Non sono stati trascinati perché l'aula è sporca, la ministra è cattiva, eccetera, ma perché avevano un retroterra precedente. Sì, infatti ho visto dal video l'entusiasmo, probabilmente anche la possibilità di far crescere in loro ancora di più, magari diventare futuri politici di domani o comunque futuri rappresentanti attivi del proprio... Sì, per esempio, che è l'altro consiglio dei ragazzi presente qui, una ragazza che è qui di 19 anni, ha scelto di continuare, lei, di riprendere anzi e di fare la coordinatrice assieme ai coordinatori più anziani che ci sono. Certo, perché quando si mette alla fine un seme, cioè quando si comincia a far instaurare un sentimento all'interno del ragazzo già piccolo, penso che possa solo aumentare. Io credo che la cosa fondamentale è quella di trasmettergli il fatto che noi non li stiamo prendendo in giro, che noi non li stiamo facendo finta di fare un gioco, ma che per noi loro sono importanti, sono importanti come persone, come cittadini, come bambini, portatori di esigenze e di visioni della vita e di necessità della vita che sono importanti tanto quanto quelle degli adulti, se non di più, perché se pensiamo che tutto il futuro noi diciamo in mano a questi ragazzi, però non è che possiamo costruirglielo noi il futuro e quindi decidere che saranno bravi se andranno a fare gli ingegneri nucleari o cose di questo tipo, saranno bravi se saranno delle persone, delle persone capaci, delle persone consapevoli, delle persone che a loro volta sapranno ascoltare. Vi ringrazio. Un'ultima cosa, un ragazzo consigliere anni fa aveva messo un suo programma per farsi eleggere con questa semplice frase, mi candido perché ho pensato che vorrei dare del mio tempo agli altri, una parte del mio tempo agli altri, magari a volte c'è chi scrive io prometto che farò il campo di rugby qui, di pallavolo eccetera, vi porterò, farò rimettere in ordine tutti i marciapiedi, i giardini delle scuole eccetera, lui ha messo questa semplice frase che secondo me è stata molto più efficace che il fatto che noi adulti scrivessimo nella scuola ordine e disciplina, non dovete sporcare, non dovete fare così nei bagni, si comporta eccetera eccetera eccetera, perché era sempre lì visibile davanti a tutti tutto l'anno. Molto bello, molto interessante. In bocca al lupo per i vostri progetti, vi ringrazio.